Alexa, che giorno è oggi? È giovedì, 8 luglio. Alexa, che tempo fa oggi? In questo momento, a San Sperate, ci sono cielo sereno e sole, con una temperatura di 27 gradi Celsius. Le previsioni di stasera indicano cielo sereno, con una minima di 19 gradi. Grazie. Alexa, ma tu conosci Andrea Portoghese? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda.